La piazza antistante e la nuova torre civica comunale di Monte Rotondo sarà intitolata l'indimenticata poliedrica figura di insegnante, pedagogo sindacalista della scuola, dirigente politico, oltre che primo cittadino Borrelli, sindaco della città dal 1965 al 1979. Alla cerimonia saranno presenti la vedova signora Valeria, i figli Paolo e Stefano, personalità della cultura, delle istituzioni cittadine di oggi e del tempo, numerosi dipendenti comunali ora pensionati che ebbero modo di collaborare con Borrelli negli anni dei suoi mandati. Anni segnali da difficoltà ma anche da straordinari slanci di impegno politico e sociale durante i quali Monte Rotondo conobbe stagioni di grandi trasformazioni, miglioramenti e modernizzazioni tali da condizionare virtuosamente il suo sviluppo e trasformarla progressivamente nella città di oggi, quella dei servizi, delle infrastrutture e della cultura.